D'Arsignano a Praga, dal 2017 al 2023, Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha affrontato la conferenza stampa di vigilia della finale di Conference League.U.S.T.M. con tanta emozione, affermando di tenersi ancora dei dubbi, secondo noi sono principalmente due, due e mezzo se proprio vogliamo, con Ranieri che insidia Igor in difesa è il solito ballottaggio, Cabral e Iovic in attacco, 50-50 perché se Cabral è stato sempre impegnato nelle partite importanti è pur vero che Iovic sta meglio rispetto al brasiliano. Il terzo dubbio riguarda Quame, il Cone con i francesi leggermente avanti, ma Quame che sta scalando posizione nelle gerarchie del tecnico siciliano. Un altro dubbio è l'attolto Castrovilli che è indisponibile, oggi si è allenato prima rispetto ai compagni e non sarà della finale domani. La Fiorentina vuole ottenere un trofeo che manca da 62 anni per portare finalmente una gioia alla propria gente, al proprio Presidente del Popolo Visto.